Una discussione su Facebook in cui c'erano delle persone che litigavano e c'era una parte di credenti che cercava di convincere l'altra parte che appunto Dio esiste e viceversa. Ecco, secondo me in questo modo non si può convincere delle persone sull'esistenza di Dio, di Allah, di Dio, God in inglese eccetera eccetera. Cioè, invitare una persona a credere significa semplicemente dargli degli spunti di riflessione. Ok? Senza dilungarsi troppo. Perché il 95% del lavoro deve farlo il cervello. Cioè, la persona con il suo cervello, con il suo cuore, in uno stato di quiete e di riflessione profonda. Cioè, l'esistenza di Dio non è che puoi farlo con una partita di scacchi a logica, logica a scacchi. Nella maggior parte dei casi. Poi magari c'è quel 0,01% che si convince così. Però la maggior parte dei casi non funziona in questo metodo. Cioè, in questa discussione tra le varie cose era emerso un elemento. Qualcuno diceva che... Un elemento interessante che mi ha fatto riflettere. Che diceva... Che negli ultimi tempi non credere è più una moda. E secondo me, più che una moda è... Negli ultimi tempi le persone sono soggette a un fenomeno che le porta a non credere in massa. Ok? E questo fenomeno è la mancanza di momenti di riflessione e di, diciamo, di quiete. Nel senso che nei giorni nostri è difficile trovare una persona che riflette sul senso della sua vita, sull'origine delle cose, sul perché delle cose, eccetera, eccetera. E quindi darsi tempo per giungere a delle risposte. Cioè, anche i credenti, molto spesso, si trovano a difendere delle credenze sulle quali, in realtà, non è che hanno riflettuto sufficienza e che quindi hanno abbracciato dopo riflessione. In realtà, spesso, molti credenti credono perché sono nati credenti. Ok? E non è che vale di me... Cioè, non è che vale di me... Chiaramente ha consapevolezza, è molto meglio, ma non è che allora bisogna darti del keffer. Però bisogna prenderne atto. Ecco, e quindi in questo... Cioè, questa mancanza di momenti di quiete e di riflessione porta a questa rafla generale che porta tante persone nella nostra epoca a non credere. E molto spesso, per esempio, parlavamo del tema della discussione davanti a uno schermo, cioè della discussione su Facebook in cui cerco di convincerti che Dio esiste. E molto spesso in queste discussioni che magari avvengono su Facebook, su Instagram, sui vari social, magari questa discussione si fa davanti a un computer, magari mentre si studia, perché quel commento lì della discussione è all'interno di un momento confuso, mentre si risponde a una chat, mentre si guardano magari altre notifiche, parlando al telefono, Cioè, com'è che si può discutere e riflettere sull'esistenza di Dio in un caos del genere? Cioè, anche l'interlocutore non è concentrato in te. Cioè, anche l'interlocutore non è concentrato in te.